L'emergenza delle emergenze continua ad essere emergenza, ogni volta dicono che l'ultima volta, per quanto mi riguarda, io questa emergenza non la voglio neanche più sentire. Abbiamo dato un sacco di soldi, non è giusto che il Nord o chi si comporta bene in giro per il Paese deve sempre pagare per chi si comporta male, per chi non è capace di organizzarsi pur avendo avuto un sacco di soldi, quindi per quanto mi riguarda il voto sarà contro l'aiuto al sistema dei rifiuti a Napoli.